Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Apriamo parlando di giostra del Saracino e di quello che è accaduto durante la prova generale che è stata poi annullata. Ci racconta tutto in questo servizio Chiara Sadotti. A seguito di riunioni con le istituzioni e la magistratura della giostra ha deciso per motivi di sicurezza e incolumità di Pantini e dei Cavalli di interrompere e annullare la prova generale. La prova generale è stata annullata a dare l'annuncio all'Araldo che ha spiegato la scelta presa dal maestro di campo Gabriele Veneri per ragioni di sicurezza. E' finita così la prova generale della 143esima giostra del Saracino in memoria di Eros Ricciarini dopo una brutta caduta da cavallo di Filippo Vannozzi esordiente tra le riserve di Porta Crucifera. Vannozzi è stato sottoposto ad accertamenti durante la notte dopo essere stato soccorso dal personale sanitario e portato all'ospedale San Donato. Filippo siamo sentiti anche poco fa, è stata tutta la notte comunque bene, tutte le analisi sono negative, questo insomma ci fa sperare. Anche il cavallo è stato visitato stamani e anche lui ha risultato tutto negativo, questa cosa è più importante. Le cause della caduta sono ancora in fase di verifica, adesso saranno effettuati ulteriori accertamenti e sopralluoghi sulla lizza per verificare che le condizioni per sabato siano perfette. Sicuramente i temporali del martedì sono stati terribili perché l'acqua è stata trattenuta sotto la lizza e nonostante tutto il gran lavoro che è stato fatto continuamente evidentemente non siamo arrivati alla soluzione migliore. Vediamo insomma da qui a domani quello che si può fare. Prima di Vannozzi a correre il primo giro di carriere i tre cavalieri degli altri quartieri Nicolo Scarpini per Porta del Foro, Nicolo Pineschi per Santo Spirito e Matteo Bruni per Santa Andrea. Non hanno invece avuto la possibilità di affrontare il buratto Roberto Gabelli per i giallocremisi e Lia Pineschi per la Colombina, Leonardo Tavanti per i Biancoverdi ed infine Andrea Bennati per Porta Crucifera. Le condizioni meteorologiche e le piogge torrenziali dei giorni scorsi hanno messo a dura prova la lizza spiega in una nota l'amministrazione comunale di Arezzo l'indomani proprio dell'incidente avvenuto in Piazza Grande ma la stessa è stata più volte risistemata per garantire la massima sicurezza di cavalli e giustratori. La ditta incaricata ha svolto nella giornata odierna la quarta risistemazione della terra e anche nei giorni precedenti è stato fatto tutto il possibile per garantire le migliori condizioni della piazza. Era infatti unanime la condivisione di effettuare la prova generale e non vi era incertezza alcuna riguardo alla sicurezza della corsa. Non c'è dubbio che l'infortunio di Vannozzi, spiega ancora il comune, è stato frutto di una somma di fattori tra cui anche le condizioni della lizza nel punto in cui è avvenuta la caduta dove si presentava più soffice e altrove. Da qui la sostituzione integrale del materiale in corso di esecuzione per una idonea estensione. E cresce la preoccupazione e l'amarezza dei lavoratori della FIMER. Il Tribunale di Arezzo ha emesso un'ordinanza con la quale si è dichiarato incompetente a decidere proprio sul futuro dell'azienda. E ora le carte passano al Tribunale di Milano. Vediamo. Ancora una doccia fredda per i lavoratori della FIMER di Terra Nuova Bracciolini, azienda produttrice di inverter proprio quando la svolta sembrava all'orizzonte con l'accordo trovato nella notte tra la proprietà e una società collegata a Grebul McLaren. Le carte adesso passano infatti al Tribunale di Milano. Quello a retino si è dichiarato incompetente a decidere sul futuro dell'azienda trasmettendo tutte le carte sulla richiesta di concordato al Palazzo di Giustizia milanese. Una decisione che si legherebbe ad un precedente passaggio di società tra ABB e FIMER che ha spostato la sede legale da Arezzo a Milano il 30 dicembre 2021. Nel provvedimento i judici a retini confermano poi l'esistenza del nuovo accordo tra FIMER e Grebul ma dichiarano contemporaneamente l'inammissibilità dell'istanza, l'improcedibilità del concordato preventivo, disponendo l'estinzione del procedimento e la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano. Sezione specializzata in materia di impresa in merito al provvedimento volto alla dichiarazione di insolvenza disponendo la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del procedimento unitario in favore del Tribunale milanese. Spetterà dunque ai giudici di Milano decidere se dichiarare l'insolvenza o concedere l'amministrazione straordinaria. Cresce così sempre più la preoccupazione e l'amarezza dei lavoratori che da due settimane stanno occupando l'azienda. È stata ritrovata e sta bene una ragazza di cui non si avevano più notizie ormai da ore. Della sua scomparsa erano state informate le forze dell'ordine e da ieri sera erano state attivate ricerche a tutto campo da parte dei carabinieri di Arezzo insieme ai vigili del fuoco del comando Aretino. La giovane, 18 anni appena, si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione in Val di Chiana. I vigili hanno attivato le procedure di localizzazione dei cellulari e dall'elaborazione dei dati ottenuti dal gestore telefonico è emerso che la ragazza si trovava in provincia di Firenze. Oggi nel primo pomeriggio è stata infine individuata, era in un parco nel capoluogo toscano in zona Campo di Marte. decisivo è stato il restringimento dell'area abbattuta fatto dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Arezzo grazie all'applicazione di tecniche di triangolazione telefonica e procedure di ricerca persona. Ancora cronaca, un anziano è stato addescato e derubato da due ragazze in pieno centro ad Arezzo. La scena è stata filmata e sta facendo il giro del web. Vediamo. E' stato avvicinato per strada da due donne, palpeggiato ed infine derubato. E' successo ad Arezzo nel cuore della città, in via Guido Monaco. Una scena ripresa con un cellulare è poi diventata virale sui social. Nel video si vedono le due ragazze accanto al signore. Dopo averlo adescato, una delle due donne ha iniziato a palpeggiarlo, distraendolo mentre l'altra lo intratteneva parlando. A questo punto la ragazza che lo stava toccando con la mano libera riesce a prendere il portafogli dell'uomo, rapidamente sfila alcune banconote e le infila dentro al reggiseno, poi dopo assieme alla complice saluta la vittima e si allontana. Una tecnica che sembra ben collaudata potrebbe infatti non trattarsi di un caso isolato, anche se al momento l'episodio non è stato denunciato alle forze dell'ordine. Una corona di fiori, ricordo dei volontari della libertà Sante Tani, Don Giuseppe Tani e Aroldo Rossi. Ad averla deposta sono stati l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra di Arezzo e le ACLI di Arezzo che erano tra le realtà presenti alla cerimonia commemorativa ospitata dal carcere cittadino per ricordare le tre vittime delle barbarie nazi fasciste che con il loro sacrificio hanno contribuito a costruire un futuro di democrazia e sviluppo per il Paese. Questa commemorazione ha aperto il programma di eventi che permetteranno, nelle prossime settimane, di ricordare le vittime del territorio di Arezzo che fu martoriato di ecidi e stragi tra il giugno e il luglio del 1944. E restiamo ad Arezzo perché è stata interamente restaurata e riaperta la chiesa di San Lorenzo dove venne rinvenuta la statua della Minerva. Vediamo. Torna a nuova luce la chiesa di San Lorenzo. Qui ci troviamo in pieno centro storico ad Arezzo. L'edificio è stato interamente restaurato sia all'interno che all'esterno. È una delle chiese più antiche della città. Il restauro, realizzato in collaborazione con il Rotary Club di Arezzo, ha riportato a nuova luce la chiesa e il pozzo interno dove, affermano gli esperti, è stata ritrovata la statua della Minerva. Qui nel 1930 fu scavata e rinvenuta una domus con pavimenti in marmo, pareti decorate in stucco e un incredibile larario, cioè uno stipetto, nel quale erano conservate le immagini dei lari e dei penati, le divinità preposte alla tutela della salute della casa e della famiglia. Ma molti secoli prima, in realtà, i documenti di archivio ci raccontavano che proprio nello scavare un pozzo all'interno della chiesa di San Lorenzo era stata trovata in frammenti la statua della Minerva. La statua fu recuperata e l'anno dopo, nel 1543, fu acquistata da Cosimo I, che la volle nel suo studiolo a simboleggiare la forza, la sapienza. Subì un importante restauro nel XVIII secolo ad opera dello scultore Carradori, che vi mise all'interno una sorta di sostegno in legno che è stato recentemente tolto durante un restauro importante che ha tra l'altro anche messo in evidenza come il braccio posto dal Carradori fosse posticcio e quindi è stato tolto, ma è stata fatta una copia accanto. La statua si trova ancora esposta al Museo archeologico di Firenze. Il restauro realizzato in collaborazione con il Rotary Club di Arezzo oggi ha reso visibile anche il pozzo. È stato un recupero importante perché la chiesa era veramente molto abbandonata. Tra l'altro si sta parlando della chiesa più vecchia, forse, di Arezzo. Le prime notizie risalgono al 1025. Gli interventi sono stati sia sulle facciate esterne ma soprattutto un grande intervento sull'interno quindi per tutto quello che era gli altari, gli affreschi, l'imbiancatura e impianto elettrico e per finire tutte le opere e linee che c'erano all'interno. E adesso spostiamoci a Cortona dove venerdì 23 giugno si darà il via alle celebrazioni del suo illustre figlio Luca Signorelli in un weekend denso di appuntamenti. Il servizio. Manca una settimana all'apertura della mostra Signorelli 500, Luca da Cortona, maestro di luce e poesia. Venerdì 23 giugno la città darà il via alle celebrazioni per il suo figlio più illustre nell'anno della ricorrenza del cinquecentenario dalla morte. A Cortona arriveranno 30 opere provenienti da tutto il mondo da collezioni private e musei che saranno esposte all'interno delle sale del Mike. Il via venerdì prossimo alle ore 17 al centro convegni Sant'Agostino con gli interventi del sindaco Luciano Meoni, dell'assessore alla cultura Francesco Attesti, dei rappresentanti dell'Accademia Etrusca e del Mike, degli organizzatori e del curatore Tom Henry. Tra i relatori è annunciata la presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, oltre che del presidente della regione toscana Eugenio Gianni. A seguire si terrà il taglio del nastro a Palazzo Casali. L'accesso alla mostra sarà possibile in gruppi contingentati. Per l'occasione il museo resterà aperto fino alle 23. Dedicato alla celebrazione è anche il concerto di Stephen Isserlis, violoncello, alle ore 21.15 al Teatro Signorelli, grazie al nome Academy and Festival. Si tratterà di un fine settimana interamente dedicato a Luca Signorelli. Sabato 24 si terrà la conferenza di Claire Van Cleve sui disegni dell'artista cortonese alle ore 17 alla Moderna in via Maffei e domenica 25 giugno si terrà la premiazione del concorso di pittura dedicato a Luca Signorelli, alle ore 15 nella sala del Consiglio Comunale. Voluta dall'amministrazione comunale, con la collaborazione dell'Accademia Etrusca e l'organizzazione di villaggio globale, Signorelli 500, Luca da Cortona, maestro di luce e poesia, è la più importante esposizione internazionale dedicata al pittore. La mostra cortonese è quindi il fiore all'occhiello delle celebrazioni nazionali per il 500esimo della morte e rientra nel programma del protocollo di intesa sottoscritto nel settembre del 2021 insieme agli enti coinvolti dal gal orvietano Trasimeno e quindi con la rassegna Umbra perugino Signorelli. Rimaniamo in Valdichiana, si chiama Letti di Notte e è il titolo della rassegna letteraria organizzata dalla Proloco di Lucignano e dal Comune. Prevede quattro appuntamenti tra giugno e luglio e si svolgerà con modalità differenti all'interno del caratteristico centro medievale della città, tra l'altro che è uno dei borghi più belli d'Italia. Il primo appuntamento è per domani alle 21.30 con la scrittrice Paola Minussi che presenterà in Piazza San Francesco il suo ultimo libro, l'archivista di Torre Chiara. E torniamo ad Arezzo, una mostra d'arte nelle sale della provincia. Scopriamola in questo servizio. Tre artisti, tre suggestioni, è la mostra ospitata nella sala d'onore della provincia di Arezzo. Protagonisti Valentino Bruschi, Cinzia Gragnoli e Katia Tucci del Cenacolo degli Artisti Aretini. Fil rouge dell'esposizione Il Mondo che ci circonda, natura in testa, raccontato dalle diverse sensibilità dei tre artisti. Queste nostre opere sono in modo diverso, visto da noi artisti, la rappresentazione della natura. Soprattutto con i colori esprimo la voglia, la bellezza, la gioia della natura e di vivere possibilmente cose gioiose. Ecco, tutto qui. Una trentina le opere esposte sino al prossimo 23 giugno. E adesso torniamo a parlare della giostra del Saracino e delle misure di sicurezza previste in Piazza Grande. In Piazza Grande, in occasione della 143esima edizione della giostra del Saracino, ci saranno anche loro, gli operatori dell'Agenzia Ombra di Arezzo, al fianco delle forze di polizia per garantire l'ordine pubblico. È una festa per la città, è una rievocazione storica che va avanti da centinaia di anni e è anche un momento di aggregazione di tutta la popolazione avetina, anche con le appartenenze varie dei quartieri, con giuste rivalità, che però hanno un limite in tutto. Quindi confidiamo nella intelligenza di tutti quanti perché questa rimanga una festa, perché è una festa. Inizia come festa e deve finire come festa. Quindi mi auguro che il supporto nostro alle forze di polizia e a questa manifestazione di rievocazione storica sia marginale e non importante. L'Agenzia, infatti, non si occupa solo di investigazioni, ma di sicurezza a tutto tondo. Anche gli operatori stessi li abbiamo formati internamente a noi e chi poi ha preso altre, abbiamo fatto prendere altre specializzazioni come primo soccorso, anti-incendio alto rischio, addetti al controllo e quello che sia. Però una qualifica non fa il professionista. Il professionista è colui che si ha la qualifica ma sa stare in campo e sa prevenire le situazioni. Troppo facile sparare. Il difficile è saper capire come fare a non fare quello. Quindi in questo siamo abbastanza all'avanguardia. Passiamo alla pagina sportiva e parliamo di nuoto. L'avventura di Gabriele Mealli con la nazionale italiana ha preso il via. L'atleta della Chimera Nuoto indosserà l'azzurro in occasione della Coppa Comen che in programma fino a domenica 18 giugno vedrà squadre dei paesi europei, africani e asiatici affacciati sul mar Mediterraneo confrontarsi nella greca Larissa in una delle più importanti manifestazioni giovanili internazionali. Classe 2007, Mealli è alla sua prima convocazione in nazionale. La stagione della Chimera Nuoto nel frattempo sta proseguendo con positivi risultati nelle prove federali estive nelle diverse categorie. E adesso spostiamoci in Casentino. Due giorni di agonismo, 105 chilometri e 8 prove speciali. Questi sono i contenuti proposti da Scuderia e Truia Sport per il 43esimo rally internazionale Casentino. Terzo appuntamento di International Rally Cup in programma venerdì 7 e sabato 8 luglio. Il 43esimo rally internazionale del Casentino vedrà la fase di iscrizione aperta fino a mercoledì 28 giugno. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.